La coppia formata da Serena, Enardu e Pago sembra attraversare un periodo difficile dal punto di vista sentimentale. Dopo il ritorno di fiamma avvenuto nel 2023, sembra che ora stiano vivendo il momento più buio della loro love story. I due non si mostrano insieme sui social da giorni e sembrano vivere in luoghi separati. Serena ha messo in modo piuttosto vago che ha bisogno di elaborare ciò che sta accadendo nella sua vita privata. I fan sono in ansia, molti danno per certa la rottura della coppia. Pago è chiuso in un silenzio ermetico da settimane e non ha rilasciato dichiarazioni in merito. È evidente che da tempo non si mostri con la compagna o forse ex compagna. Serena ha dichiarato di dover metabolizzare la situazione e che una volta chiarite le idee racconterà ai suoi followers cosa sta succedendo. Nel frattempo, l'extronista si sta dedicando a un nuovo progetto professionale top secret che ha inseguito per anni. Sorge il dubbio se Serena e Pago stiano giocando con il gossip per creare hype. Solo il tempo potrà dare le risposte necessarie. Se dovessero riapparire insieme presto, sospetti di una crisi costruita per fini di visibilità e autopromozione verrebbero confermati. Se invece le dichiarazioni di Serena fossero sincere, la crisi sarebbe reale. punto di vista di avere anche una crisi costruita per favore. Sottotitoli, grazie a tutti. Tac. Ciao. Ciao.